Tutto sotto controllo, almeno per ora. Sul fronte del trasporto pubblico locale non ci sono stati problemi con la riapertura delle scuole, nonostante gli autobus siano stati, soprattutto l'anno scorso, uno dei luoghi di maggior affollamento nell'ore di punta a causa della frequentazione degli studenti. Dal 10 gennaio i mezzi hanno visto un riempimento medio-inferiore, soprattutto per le molte classi in quarantena. I bus sono leggermente meno utilizzati rispetto a prima. Anche, lo ricordo, la divisione del trasporto provinciale fa anche dei servizi scolastici convenzionati, anche in quelli c'è un lieve calo. Non sono cali molto significativi, ma un buon 10%. La capienza degli autobus in questo momento è all'80%. In questi giorni le regioni hanno chiesto al governo di mantenere questa percentuale, anche in caso di zona arancione, che prevederebbe una soglia del 50%. MT dice comunque di essere pronta anche a sostenere eventuali riduzioni di capienze per le corse del Tiguglio. Molte sono già praticamente vuote, ma quasi sicuramente servirebbero aggiustamenti su quelle più frequentate. Siamo sempre stati con un certo margine di tolleranza, quindi diciamo che sul 60% problemi al 50%, a limite con qualche intensificazione, come quelle che abbiamo già fatto dopo il tavolo prefettizio, dovremmo per adesso far fronte, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Poi è logico, io parlo di valori medi, se fosse concentrato in una sola linea allora diventa tutto più difficile. Non solo rientra a scuola, da lunedì ci sono regole più stringenti per salire sui mezzi, serve il Green Press rafforzato e la mascherina FFP2. In generale le norme per ora sono rispettate. In generale c'è rispetto, ci sono sempre quei casi isolati, qualche teatrino con le forze dell'ordine, di norma, c'è stato un buon rispetto, anzi una rincorsa alla FFP2, abbiamo in qualche caso tollerato l'utilizzo di una mascherina normale, però controllo intenso in piazza Nassiri abbiamo visto che tutti gli studenti avevano la FFP2, quindi direi che generalmente c'è un rispetto delle norme.